Io posso impazzire perché vedo della roba che fondamentalmente forse non ho mai visto Per esempio qui c'è un apparecchio medicale dove all'interno è stata inserita una tastiera del vecchio Commodore 64 E tutto è finalizzato tramite dei meccanismi interni alla produzione di musica Alla generazione di musica, nel senso che si genera della musica completamente nuova da questi nuovi strumenti Che molti dei cantanti di nuova generazione e dei suonatori, soprattutto degli ingegneri del suono, stanno per utilizzare A proposito di suono, io vi ricordo che tra non molto, partiamo grossomodo a fine agosto, ci sarà la nuova edizione di Lavica Rock Quindi se sei un cantante rock, fai parte di un gruppo rock o ti piace semplicemente il rock Inizia a mandare la tua iscrizione al nostro sito internet, spulciando troverai tutte le informazioni ma soprattutto la nostra mail Mandateci il vostro materiale perché stiamo cercando voi, stiamo selezionando i migliori gruppi per la nuova edizione di Lavica Rock